La vigna è il simbolo del popolo di Dio. Il Signore si prende cura del suo popolo, lo difende dai nemici e lo fa diventare forte e grande. L'unica cosa che Dio vuole dal suo popolo è l'obbedienza. Quanta fiducia aveva messo Dio Padre nel popolo di Israele mandando loro il proprio figlio. Purtroppo questo popolo si è mostrato indegno della fiducia che Dio aveva investito in loro. E noi siamo degni della fiducia del Signore. Siamo cristiani, il nuovo popolo di Dio e il Signore ha posto la sua fiducia in noi. La Chiesa, fondata da Gesù con la sua passione morte e risurrezione, è chiamata a seguire il suo Signore e ad essere vigilante davanti alla sua venuta. Lo aspettiamo noi con tutto il cuore. Vogliamo che Gesù regni su di noi e instauri il suo regno in mezzo a noi. Sono queste le tante domande che la parabola del Vangelo di oggi ci mette davanti. Spetta a noi rispondere attraverso le nostre azioni e scelte quotidiane. Ti consideri un lavoratore nella vigna del Signore. Obedisci la Chiesa e i suoi ministri.